benvenuti in un nuovo video oggi siamo qui finalmente dopo mesi non registravo questo format secondo me da gennaio anche perché l'ultimo video che abbiamo registrato era i panguccioli quindi oggi siamo qui per provare un po di novità che sono uscite all'interno della degusta box e direi proprio novità supermercato perché meno male tranquillamente questi prodottini voi che sicuro sarete più aggiornate di noi con i suoi mercati che andate lì e trovate la novità li troverete sicuramente quindi io direi di iniziare da un dolce direi di toglierci il dente esatto sì sì non sono riuscita a vedere se l'avevamo già provata quella caramello invece avete detto si gira l'avete già provata sì però vediamo sì io mi ricordo caramello quella aveva preso dopo quando l'ora già c'era una dentro l'avete già provata tortina peanut butter questa è uscita nella degusta box del mese di febbraio è così che ti aspettavi pure la caramella è così è una tortina da 21 grammi il cioccolato fondente puri comunque non l'abbiamo provato eccola vai non fa niente quando dopo prisco io no no prenditi questo ma non è neanche fondente perché non è molto amaro non ho capito bene molto bene molto non ho capito bene l'abbiamo già provata io questo gusto non me lo ricordo ma anche non è un cioccolato al latte perché non ti rimane proprio quella bella però sincera non è male però io non mi piace fondente mi aspettavo qualcosina in più lo sai sì abbiamo parlato poco ma diranno che noi bocciamo tutti i prodotti già immagino no sempre quella di tu no io non ho capito però con te io non sento il burro d'alachidi tantissimo io una vera di salato l'ho sentita invece no io no io sento solo l'esterno pregevina copre tutto però si sente il burro d'alachidi si si sente vedi che forse mi chiedevo sei 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 e mezzo e oro saiba 100% grano italiano grano fondente frullini integrali con gocce di cioccolato fondente ma sai forse con cosa mi sono confusa come si chiama il burro d'alachidi gentilini perché diciamo è la linea di gentilini ah secondo me con quelli abbiamo ricevuto qualcosa che ho provato all'interno dei blog no ma qualcosa io non sai ma l'abbiamo mangiato sì io allora questi praticamente sono integrali con le gocce di cioccolato fondente questo pure mi ispira anche se a me non piace fondente ti piacciono neanche biscotti secchi mangiati così esatto però questo già me li sto mangiando in giù fanno e il latte poi ci sono le fibre adoro cioè è pieno è di gocce pure il fondente non è amarissimo non è neanche quell'integrale pesante a volte lo fanno veramente troppo tipo io non riesco a mangiarmi proprio due biscotti tipo quelli pure che abbiamo di là che sono aperti sono doppi integrali che non ce la faccio proprio domani questi mi riconservo della mamma mia questo guarda pure dolce ci fai un fit tipo il tiramisù ci metti uno di questo un po' di yogurt oppure di una cheesecake mi raccomando provateli buono perché sono buonissimi 7 e mezzo 8 8 pure 8 e mezzo buonissimi veramente buoni andiamo avanti direi questa volta di passare ad uno salato salato lieve o salato lieve salato lieve o 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 sal Questi sono spiziosi da accompagnare, perché pure quella salsa secondo me, veri gughi. Ovviamente non battono sa quattro di me, però adesso, visto che l'abbiamo provato tutti, non daremo il voto, perché abbiamo anche un altro compagno. Alla fine di questo video, che assaggeremo pure d'altro, vi faremo proprio una classifica generale. Io questi li ho visti anche al Conad, quindi se siete interessati li potete trovare al Conad. E uno tira l'altro, che è diverso dal solito, tipo quei crostini, pure quelli da sottili. Questi crostini, ce ne siamo mangiate i pacchi di crostini. Ultimo dolce, che questo è proprio una super super novità. Siamo parlando di Kellogg's, Kellogg's Extra. Adoro, perché sono in meccato. E ce la mangiate ormai. Kellogg's Extra, cacao e crema di nocciole. Però c'era anche un altro gusto, aspetta, facciamo vedere. C'era pure un altro gusto che non ricordo, e non venne riportato sulla brochure, se non erro. No, però c'è anche un altro gusto. Lo sarà? Ah, ce ne sono tre all'interno. Tanta ci potremmo. Mamma, dà un olore. Questo tipo cappellante. Questo è come piace a me con tutti quei semi sopra. Questo è come piace a me con tutti quei semi. anche se non sono a far bene le nocciole le nocciole ragazzi sentono tantissimo sentono proprio con la nocciola al forno buonissimo però sento pure qualche altra cosa questa cosa dolce caramellata si sono superate la nocciola si sente che di qualità superiore solitamente la nocciola tende ad avere pure quello retro gusto un po' amaro un po' proprio bruciato non è semplice individuare una buona nocciola ma questa è veramente buona dietro c'erano gli arachidi le mandorle ecco cosa si sentiva le mandorle le nocciole più la crema di nocciole sopra la vena provate prendete ci è andata bene a questo giro eh poi io lo do pure io 9,9 e mezzo top si sono superati grazie poi me ne fattivo pure ultimo prodottino salato mi aspetto molto ma allo stesso tempo allora sempre queste bake rolls gusto pomodoro e olive saranno integri l'altro era mediterraneo questo è la pizza no pizza ho provato sour cream e pizza pomodoro mmm c'è andata proprio rossissima questo è rosmarino pomodoro e olive e mhm mh ce no mi non so s'aggrede non mmm i rossani i rossani di rossani diventano le olive adesso lo smetteremo più non so che sarete d'accordo con me la posso fare io prima sour cream seconda pomodoro e olive terza pizza quarta originale ma non perché non sia buona originata è molto semplice vale più la prima a provare gli altri secondo me pizza è molto diciamo easy però questo sì perché solo questo l'abbiamo provato che pizza ce l'hanno tutte volte uguale ho ricominciato con il format alla grande veramente quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao